Buon pomeriggio dalla redazione di Florence Multimedia in studio Nicola Giannattasio. In A1 in direzione Roma rallentamenti tra Barberino e Calenzano e tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Chiuso il tratto della panoramica tra la variante di Valico e Aio per lavori. Sulla FIPILI segnalato personale su strada tra Montelupo Fiorentino e Ginestra Fiorentina in direzione Firenze. Sul raccordo Siena-Firenze è stata chiusa una corsia per un veicolo in avaria prima dello svincolo di Poggi Bonzi in direzione Firenze. Sul raccordo Siena-Bettolle scambio di carreggiata per lavori tra Rigo Magno e Sinalunga e San Gimignanello in direzione Siena. Sulla statale 1 Aurelia ha chiusa l'entrata e l'uscita di Rio Torto in direzione Genova. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Muoversi Toscana